Ehi ragazzi, come va? Sono Sav. Sono qua in una delle tipiche bellissime vie californiane, più precisamente nei pressi di Santa Barbara, che è veramente uno spettacolo, relax, mare stupendo, natura. E sono qui per dirvi che vorrei ringraziarvi perché tutti insieme siamo riusciti ad arrivare a 60.000 iscritti e a superare anche le 6 milioni di visualizzazioni. Sono veramente senza parole perché se per alcuni questo mio traguardo sembra veramente nulla, per me è qualcosa di straordinario. Basta pensare che una delle ultime volte che ho fatto un video di questo genere avevo appena raggiunto i 10.000 iscritti, ora invece siamo a 60.000. Quindi ragazzi, spero che abbiate passato un'ottima giornata, che continuate a seguire il mio canale e a capire quale sia il mio proposito, ovvero quello di farvi sorridere, a volte farvi imparare qualcosa, ma soprattutto fare in modo che riusciate ad aprire la vostra mentalità e a mantenere sempre più viva la vostra positività. Un saluto dalla California, un abbraccio, ciao ciao!